Lui è solo, nella camera buia come l'inferno, un immenso silenzio è intorno. Sì, ha le braccia strette dietro la schiena e un grande senso di stanchezza nel cuore, però torna a domandarsi nel buio perché è accaduto tutto questo, perché è lì e nel suo cervello martellano mille domande, anche stupide a volte. Passa e ripassa accanto a lui l'immagine di un pugnale che si immerge in un seno turgido e bianco e taglia e squarcia. Il tempo passa, nel buio, nel silenzio, è come un fremito nuovo e c'è un uomo accanto a lui. E gli chiede Sai chi sono? Il diavolo Risponde l'altro Vieni allora Gli prende un braccio e lo guida nel buio Quando giungono nella sala grande, vede nel centro la ghigliottina E si ricorda del nodo sulla schiena Mi fa male, dice Hai le braccia libere Lo conduce fin sotto la ghigliottina dove, abbassando la voce, comanda in un sussurro Stenditi È una ghigliottina, dice lui Non aver paura L'uomo si corica, a faccia di sotto No, non così Devi avere la faccia rivolta verso l'alto Ripete l'altro, abbassando ancora di più la voce Paziente si gira Ma sente che deve fare ancora un'obiezione Nella rivoluzione francese mettevano con la faccia in basso Sì, nella rivoluzione francese Ma tu, devi vedere Cosa? La lama che viene giù Assicura il legno intorno al collo E si avvicina alla cordicella Aspetta, dice Non sono ancora pronto Ma l'uomo in nero dà lo stesso uno strappo alla cordicella Ed è strano La lama scende davvero E lui vede che si avvicina con un lampeggiamento quasi urlante alla sua gola Ma l'uomo in nero Ma l'uomo in nero Ma l'uomo in nero La leva il canale Ma l'uomo in nero Grazie a tutti.